brava Martina ho cercato di darvi del vantaggio non siete stati pronti vi siete distratti perché lei è bravissima vi ha rapito Martina è stata riconfermata dall'altivrosa ma gli altri coach avrebbero comunque voluto sorveggiare assolutamente tra l'altro io la ricordo in fase academy e ricordo benissimo di averle fatto un commento sui vestiti e sono contentissima della scelta che hai fatto oggi perché ti ha valorizzato brava